È successa una tragedia! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te! Sì, è successa una tragedia! Una tragedia! Ragazzi, avevo girato un video bellissimo. Era bellissimo, era venuto bene, di impero, di impatto, subito, fresco. Volevo farvi vedere come si facevano le gocce. E ce l'ho riuscita pure. E poi ho deportato il video sul Mac, e poi stavo iniziando ad editarlo, e poi è mancata la luce, e poi non ho trovato più il video. mai più! E' andato perduto. E così, eccomi qua, a rigirare tutto da capo. Oggi, ragazzi, siamo qui per una nuova lezione del corso di disegno, in cui vi farò vedere come disegnare le gocce, e come la luce penetra in esse, sostando i punti ombre e i punti luce in zone differenti da quando la luce colpisce un corpo solido che non fa penetrare, appunto, dentro di sé la luce. Vedremo come la luce si riflette, dove si posano le ombre e dove si poseranno le luci. E soprattutto avremo l'utilizzo di una bella matita grassa bianca. Una matita bianca che vi regalerò. Vi regalo questa matita perché mi è stata mandata, insieme all'uscita numero 5, dell'arte del disegno della De Agostini. In questo fascicolo vedrete, vi farò vedere nella parte pratica, come la De Agostini suggerisce di utilizzare la matita bianca, per le lumeggiature, o per i disegni su cartoncini colorati. Ma lo vediamo dopo. Ora vi dico solo che alla fine del video la metterò in palio per voi. Intanto spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come io disegno varie tipologie di gocce. Ed eccoci a questa nuova lezione del corso di disegno, nuova lezione che vi dà come protagonista la matita bianca. La matita bianca da cui far uscire colpi di luce molto netti e molto vividi. Di bianco, su diversi tipi di fogli, se ne possono usare differenti tipi. Possiamo usare il carboncino bianco, qui ho il carbotello della stabilo, oppure semplicemente una matita similpastello bianca, per esempio qui ho quella della Dervent, eccola qui, oppure a seconda se i colpi di luce debbano essere più o meno forti, possiamo usare anche direttamente i pastelli. E qui ho i pastelli Ferrari o pronti per l'uso. Oggi vedremo come la luce si comporta scontrandosi e incontrandosi con i corpi trasparenti, come ad esempio le gocce. Vedrete che si comporterà in maniera totalmente differente rispetto ad un solido opaco, perché la luce toccando la goccia non si poserà sulla sua superficie, ma ne attraverserà la struttura, andando ad illuminare la zona esattamente opposta a quella da cui penetrerà la goccia. E vedremo insieme come questa luce si diffonderà all'interno e all'esterno con le ombre della goccia. Per quanto concerne la matita bianca, io ve ne metto una in palio, ed è quella che mi è arrivata con il fascicolo numero 5 della collana L'arte del disegno della D'Agostini, che ha proprio vari inserti che parlano dell'utilizzo della matita bianca, e vi spiegano appunto come la storia dell'arte è stata utilizzata, e come può essere utilizzata per creare degli ottimi lavori. Sfogliamo insieme, vedete che proprio l'indice è dedicato prettamente alla matita bianca, e qui vi fa vedere come un pit pastel, che è appunto questa matita che viene messa in regalo, possa essere d'ausilio su cartoncini colorati, su cartoncino nero la fa decisamente da padrone, e come nella storia dell'arte, i grandi maestri abbiano lumeggiato le loro figure, specie se è su cartoncini colorati, attraverso l'utilizzo del colore bianco. E così vedete, vi fa vedere all'interno i contrasti di luminescenza, a seconda dello sfondo che usate, così come la costruzione del disegno può avere un grande sviluppo, grazie all'uso delle luci dettate dai bianchi. o come sul cartoncino colorato, questa prende a vita in maniera esemplare, ovviamente sul cartoncino nero, e anche noi oggi lavoreremo su carta nera, e poi l'esempio dei grandi maestri, come Pietro Longhi, e riprende quindi le forme, e le lumeggiature. E poi alla fine un simpaticissimo inserto divertente, su come costruire delle immagini, usando solamente un colore, in questo caso il bianco, su fondo diverso. Quindi un disegno monocromo che possa venire fuori comunque completo, vibrante e armonico, utilizzando semplicemente la matita bianca nei suoi vari toni. Se avete la curiosità di approfondire, tutto questo lo trovate nel corso di disegno numero 5, ve lo segnalo. Invece per tutti, metto in palio questa matita con la sua bella gomma in plastica che è sempre utile avere. Tutto Faber-Castell, quindi tutto di ottima qualità. Alla fine del video, lasciate un bel commento qua sotto, scrivete quello che vi pare, come la usereste, che tipo di disegno fareste. Scrivete come la usereste, che tipo di disegno fareste. Quindi poi estrarrò la matita e ve la spedirò a casa del fortunato vincitore. Adesso veniamo a noi. Come vi dicevo, oggi di gocce si parla. La prima goccia la rappresenteremo su un cartoncino colorato. Ho scelto un cartoncino grigio come esemplificazione e quindi questa goccia conterà di tre colori. Il colore della graffite, il colore del bianco per le lumeggiature e la luce e il colore del cartoncino, per quanto concerne il corpo e la trasparenza della goccia. Come strumenti, oltre alle matite, useremo un pennello per sfumare, per avere una sfumatura morbida e uno sfumino per avere una sfumatura compatta. vedete qui anche i pastelli perché per dare colpi di luce netti potremmo usare anche un pastello bianco che è più corposo e naturalmente dà un tono di luce più bianco della matita. Essenziale per questo tipo di lavoro è avere con sé una gomma pane e tenete sempre a portata di mano naturalmente un temperamatite. Cominciamo subito. Spieghiamo innanzitutto come è fatta una goccia. Allora, ponendo che la luce arrivi da sinistra così noi abbiamo il corpo della goccia che in questo caso faremo tondo. Ora vi farò vedere tre forme di goccia su tre supporti differenti. Quindi ok, avremo il corpo della goccia e la luce colpirà la goccia in un punto. Questo qui. che avrà il nome di lustro. La luce non si depositerà sulla goccia essendo questa trasparente e quindi non spanderà la sua luce su questa porzione ma attraverserà la goccia al suo interno e rischiara in pratica questa zona. questa zona qui per poi invece uscire dalla goccia sempre la luce e rischiarare anche questa zona qui perché viene proiettata anche fuori. Quindi immaginiamo due triangoli uno che accompagna il raggio della freccia ed entra nella goccia e uno che esce dalla goccia verso fuori. Ve la sto molto facendo semplice semplice in realtà ci sono calcoli geometrici veramente importanti dietro questa esemplificazione che non mi pare il luogo di fare. Altra cosa da dire la goccia poi proietterà al di fuori di essa un'ombra che è appunto la sua ombra portata e si depositerà proprio al di fuori dal punto in cui la parte della goccia è più rischiarata quindi se questa è la parte rischiarata l'ombra portata sarà più forte sicuramente in questa zona. Prima della parte poi di nuovo riterificata del riflesso della luce ma adesso cancello tutto e rifacciamo tutto in termini pratici. sto usando una matita 2B su un cartoncino della Lidl quindi nulla di trascendentale la luce la lascio quindi faccio il corpo della goccia bello tondo in questo caso e vado a segnare il lustro che sarà sicuramente qui. Adesso la zona d'ombra più forte sarà tutta intorno al punto di contatto della luce con la goccia quindi tutta vicino al lustro quindi degraderà verso la trasparenza del corpo della goccia quindi dovrete lasciar vedere il fondo per andare a finire nella rilucenza appunto della luce nella parte inferiore. Cominciamo quindi scarico tutto il disegno che ho fatto così carico per farvelo vedere e comincio a dar vita alla mia goccia abbiamo detto che questo è il lustro quindi tutto attorno adesso io andrò a scurire e scurirò maggiormente in prossimità del lustro e sempre più a degradare verso il centro della goccia a questo punto per sfumare voglio una sfumatura morbida prendo un pennello e spando la grafite morbidamente sulla superficie dal colore mi dirigo verso la trasparenza del cartoncino visto? e adesso scurisco ancora in prossimità del lustro ok adesso prendo la mia gomma pane e pulisco fuori proprio fuori e soprattutto ripulisco il mio lustro che si è oramai opacizzato ok ora devo lavorare sulla parte inferiore della goccia dando vigore all'ombra portata quindi io so che la luce entra da qua quindi l'ombra maggiore partirà da qua e vado a sfumare anche l'ombra benissimo rinforzo l'ombreggiatura e sfumo ancora se volessi se volessi una sfumatura più compatta userei lo sfumino per portare via la grafite rientra in gioco la mia gomma pane perché innanzitutto devo creare la zona abbiamo detto che deve essere una zona in ombra una zona in trasparenza e una zona in luce quindi faccio uscire maggiormente la zona in trasparenza tamponando leggermente con la gomma pane e poi sfumando con o un tovagliolino di carta o con le dita anche con un pennello pulito che io non ho qui a portata di mano perdonatemi e adesso puliamo le zone che invece vogliamo in estrema luce e soprattutto facciamole uscire con la matita bianca quindi il lustro è la parte inferiore inferiore della goccia e riflesso fuori nell'ombra e voilà puliamo l'esterno ed eccola qui la nostra gocciolina in tutto il suo rilucente splendore vogliamo intensificare maggiormente la luce un pastello ecco qua un bianco ancora più netto a fare uscire la nostra gocciolina eccola in tutta la sua tridimensionale bellezza adesso passiamo a un altro tipo di goccia per la goccia su foglio bianco opteremo per una lacrima diciamo così una goccia che scende a mo' di lacrima da prima fissiamo la forma e la luce verrà sempre da qua ok toccando qui la goccia quindi questo sarà il lustro della nostra goccia mentre la parte in luce sarà sicuramente questa e la parte in ombra sicuramente questa luce facciamo così questa qui luce e poi riflesso qui ok costruiamo la nostra goccia cancello tutte le tracce e tampono dopo che l'avete vista per alleggerire abbiamo detto che il lustro si troverà qui prendo il mio pennello e comincio a sfumare non fa nulla se abbiamo cancellato il lustro non ci fa assolutamente nulla poi lo riprenderemo come prima dopo aver sfumato sarete sicuramente usciti dal margine della goccia quindi ripulite benissimo tutto attorno con la gomma pane e rinforziamo ancora un po' l'obbreggiatura qui attorno al lustro perché qui nella parte inferiore al lustro sarà sicuramente più forte l'ombra ok arrivati a questo punto come sempre con la nostra gomma pane puliamo i margini ovviamente se siete all'interno di un lavoro dove non dovete sbordare state attenti usate un pennello un po' più un po' meno flessibile in modo che la sfumatura non esca dalla goccia adesso cominciamo a accentuare l'ombra dall'altra parte usciamo un po' il lustro così vi cominciate a rendere conto e adesso rinforziamo l'ombra portata dall'altra parte ok ovviamente poi scendete l'ombra garbatamente e quindi sfumiamo qui dobbiamo stare attenti a non entrare col nero all'interno della goccia quindi se vi viene più comodo usate pure uno sfumino scuriamo la parte più intensa dell'ombra perché accanto ai bianchi devono esserci sempre i neri più certi per far sì che l'immagine esca dal foglio e adesso dedichiamoci a far uscire i bianchi qui ci possiamo affidare innanzitutto alla gomma e adesso tiriamo fuori tutte le lumeggiatura e adesso il bianco su foglio bianco vi consiglio il pastello ok ecco il bianco ecco la gocciolona e siamo qui il secondo tipo di goccia è fatto benissimo comunque è già gocciola questa gocciola no? bene andiamo adesso su cartoncino nero anche qui la prima cosa da definire è la forma questa la farò proprio a forma di goccia ok non so se è riuscita a vederla eccola perfetto e adesso con la luce naturalmente che viene sempre da qua e che l'attraverserà così obliqua allora innanzitutto vi faccio vedere la forma perché se no stiamo a parlare del nulla fatta la forma della nostra gocciolona il problema che si muore dinanzi al cartoncino nero è il fatto che appunto sia nero quindi la luce deve essere bianca va bene ma la luce deve essere anche nell'ambiente circostante lo sfondo qui la fa da padrone è la cosa più importante perché darà la veridicità della goccia stessa fate conto che l'ombra sarà data dal cartoncino stesso la luce sarà data dalla matita bianca e la sfumatura sarà data dalla matita bianca o dal gessetto molto sfumato e allora cosa vi consiglio tempera matite e grattugiamo un pochino la punta del pastello io non ho con me un fazzolettino di carta ma io ho le mani asciutte quindi non ho problemi voi usate sempre un fazzolettino di carta quando fate questi lavori spando su tutto il foglio la polvere a creare appunto un'atmosfera uno sfondo dentro cui alloggiare la nostra goccia e poi quando girate attorno ad essa non scendetele proprio accanto ma lasciate un margine che sarà appunto quello dell'ombra portata proprio attorno al margine della goccia in questo momento non importa se invadiamo il campo goccia tanto poi la nostra gomma pane ci salverà ricordatevi le ombre quindi ricordatevi che la goccia ha un ombro portata che si andrà a stagliare in questa porzione e che dovrà rimanere in nero a questo punto prendiamo la nostra gomma pane e ripuliamo ben bene l'interno della nostra goccia ma ben bene fino a margine ripulito ripulito tutto ben bene posizioniamo il nostro lustro ok? e rinfranchiamo la dose di luce sul margine esterno alla goccia sul margine esterno mi raccomando mi raccomando ok? e con lo sfumino o con le dita o come vi pare o col pennello sfumate quindi ritorna lei la gomma pane a ripulire lì dove abbiamo sporcato in molti mi chiedete come si usa che serve la gomma pane è essenziale per questo tipo di lavori abbiamo detto che nella goccia c'è un corpo molto in ombra che è quello vicino al lustro e un corpo invece veramente in luce che è quello che è determinato dalla parte appunto opposta adesso e poi la zona mediana che è la zona della trasparenza prendiamo il nostro pennello quindi e sfumiamo in questo momento stiamo creando la trasparenza la trasparenza deve essere di un colore molto vicino al fondo del disegno ovviamente perché la goccia scende sul fondo del disegno l'ombra sarà data dal nero assoluto del foglio adesso puliamo l'ombra portata all'esterno sfumiamo il pastello sul margine in modo che il margine sia netto ma non granuloso e adesso l'umeggiamo qui e anche il nostro terzo esempio di goccia è fatto eccolo qui una goccia su fondo nero anche qui potremmo aggiungere ancora chiaroscuri ombre naturalmente insomma questo divertitevi voi a farlo se no il video diventa chilometrico io invece spero di avervi insegnato qualcosa in questo video e soprattutto di avervi fatto vedere che anche quello che sembra una volta fatto da altri difficilissimo in realtà molto spesso è frutto di un tecnicismo e quindi la regola per montare il disegno è sempre la stessa e quando ci sono dei tecnicismi la cosa diventa più semplice perché basta capirne la regola per eseguirne il tratto è molto certe volte più difficile fare qualcosa che sembra invece più semplice da fare perché uno va di getto e poi non riesce quindi in questo ci vuole solamente tanto allenamento tanto esercizio e soprattutto tanta tanta pulizia bisogna tenere sotto controllo la pulizia del disegno la pulizia dei chiaroscuri è necessario che in tutti i tre tipi di goccia i bui siano neri le luci siano bianche e che le trasparenze inframezzino questi colori tanto che ci siano tre colori come in questo caso quindi dove partecipa il colore del cartoncino e il colore della graffite e il bianco tanto con due soli colori dove c'è il colore del supporto e il colore del carboncino del bianco del pastello bianco in questo caso e della graffite in quest'altro caso quindi buon divertimento allenatevi e noi ci vediamo dopo spero vi sia piaciuto questo video vi ha incuriosito adesso provateci voi spero che vi piacerà ricevere la matita FaberCastell e la gomma inviate a Milana De Agostini per ricevere questo altro non dovete fare che iscrivervi ai miei canali arte per te dove cuore una cappa e ombretta vi lascio il link qua e qua e naturalmente lasciare quanti commenti vorrete qua sotto in questa data io sorteggerò la matita e poi sarò lietissima di inviarvela in modo che anche voi possiate provare a fare questi esercizi con la matita adatta bene se questo video vi è piaciuto mi raccomando regalatemi anzi disegnatemi un bel pollice in su con le lumeggiature messe nel posto giusto e soprattutto condividetelo sulla vostra pagina facebook io vi aspetto sempre su instagram su tutti i miei social i link li trovate qua sotto nel box informazioni venitevi a trovare su instagram cercate arte per te e naturalmente troverete me bene non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video da ombretta e da arte per te è tutto arrivederci ciao ciao